Tutto il mondo sa che ci sono due carcassoni. Uno è in la leggenda, l'altro è in lo departamento d'auti. Se a quelli smuts ironici dei sats per Renat Nelli hanno resumito un tento carcassone, l'autore d'un assabilo moderno autando attuci culturali come l'antica città. Renat Nelli nasce nel 1906 in l'abilo Baisso, crea in quel bastido fondato per il rei di Fransio a preb la cruzata contro gli albighesi. Frequendo l'hostal del poeta Jue Busquet, un tirano contro di scrivati, di pintori e di filosofi. Nelli, inscritti in un'epoca ed uberto sul mondo, si distingui e facendo la causa della lingua città, l'autore prolifiche è quello che fa scoprire il cattarismo e i trubadù al grande pubblico. Su'erotica di trubadù è un best-seller che gli assicura successo e riconoscienza. Questa è la cultura occitana, esplorza tanto su un verbe come su un'istoria. In 1945, partecipò alla fondazione dell'Istitut d'Estudio Occitas a Toulouse, ajudato per qualche personalità del mondo literario. Ma se la Carcassuno intelato continua la carriera di insegnante e di cercare il tocco a tutti, scienza, esoterismo, poesia, opera... Giù su Negido, la rivista locale Folklore che studia l'azare e tradizioni popolari, ben la referenza dell'ethnologia moderna. D'Alius, Carcassuno ne demora vei un dei liocchi magi. E, a messo i corsi dell'Iggiaus a la Facultà di Toulouse, l'obro di Renanelli marcò una nuve generazione del Nulogues. Su crates, lingue d'Ussia, come l'appellavano i sui studenti, con l'osso della modernità tussitano, l'autore ha usato la Carcassuno moderna al regno di sull'illustre auciol. Fin finale, Renanelli è passato in lo departamento d'Aude. Il tabè è un paù di la leggenda. Il tabè è un paù di l'angie. Il tabè è un paù di l'angie, è un paù di l'angie. E' un paù di il rimangertoare il nostro fratello, Un paù di l'angie, il tabè è un paù di ripieno. Ugg Clau e l'angie, Grazie a tutti.